Ciao, buongiorno a tutti Crypto Lovers! Benvenuti in questo video dove andiamo a presentare un progetto fantasmagorico. Chi ha perso il treno di Ethereum non si disperi perché qui nel mondo delle criptovalute i treni continuano a passare costantemente. Non tutti della stessa grandezza ma qui abbiamo un treno che va forte come un dragone! Allora qui abbiamo Dragon Chain, un progetto che è nato da Disney. Quindi Walt Disney ha dato via e origine a questo grande progetto che andiamo adesso a vedere e a capire. Intanto andiamo a vedere in che posizione del CoinMarketCap si trovi. Siamo alla quarantesima posizione ma è qualcosa di incredibile perché in soli 30 giorni di vita questo progetto ha già capitalizzato 1 miliardo e 192 milioni. Qualcosa di sorprendente! Oggi sta facendo un più 26% ed è arrivato a 5 dollari. ma la cosa incredibile è che questa criptovaluta di Dragon Chain, Dragon, è stata lanciata in ICO a 5 centesimi e The Crypto Academy c'era un progetto presentato da The Crypto Academy a metà settembre e tutti coloro che hanno approfittato di questa presentazione diciamo che oggi stanno stappando champagne giorno dopo giorno perché la criptovaluta in questione continua a crescere come possiamo vedere ha un market cap in costante crescita e anche il valore dopo essere debuttato nel mercato ha un valore di 26 centesimi token che è stato più o meno valorizzato a 6 centesimi e diciamo che ha avuto questa impennata adesso ci troviamo a 5 dollari perciò segniamo giusto un per cento un per cento ragazzi in merito al valore di partenza della criptovaluta perciò qualcosa di incredibile allora andiamo a vedere realmente il progetto il progetto Dragon Chain è nato niente po' po' di meno che dalla Walt Disney che nel 2015 possiamo vederlo qui nel 2015-2014 ha iniziato questo lavoro di ricerca nel 2015-2016 diciamo che hanno iniziato a sviluppare quella che è una piattaforma open source la blockchain di Dragon Chain e poi diciamo che si è staccata dalla Walt Disney creando il brand Dragon Chain Foundation ok questa divisione diciamo che è avvenuta per diversi motivi anche per motivi strategici adesso infatti Walt Disney dice di non essere integrata nel progetto Dragon Chain ma ha studiato analizzato ha sviluppato la piattaforma poi questa ha preso un'altra strada per avere un altro brand che si chiama Dragon Chain probabilmente le motivazioni sono strategiche però non è dato a sapersi adesso perché abbiano fatto questo tipo di scelta è chiaro che si stanno verificando dei trasferimenti di persone che magari lavoravano all'interno della Walt Disney che adesso iniziano a lavorare nel progetto Dragon Chain Foundation ok quindi sicuramente qualche legame tra i due progetti c'è una caratteristica veramente importante di Dragon Chain è la flessibilità di codifica che ha perché mentre Dragon Chain è codificato principalmente in Phyton i suoi contratti intelligenti supportano linguaggi come Java, Phyton, Node quindi è importante che una criptoaluta supporti diciamo diversi linguaggi di programmazione poiché non tutte le aziende utilizzeranno la stessa quindi diciamo che Ethereum è molto più complesso e complicato perché richiede che i progetti e i contratti intelligenti vengono scritti con Solidity ecco che questa è veramente una caratteristica importante che va a distinguere Dragon Chain perché facilita tutte le aziende con un linguaggio di programmazione più comune ok quindi questo è sicuramente un dato importantissimo per Dragon Chain l'incubatore di Dragon Chain è una piattaforma che consente ai progetti più piccoli di utilizzare l'infrastruttura di Dragon Chain per accelerare quelli che sono i progetti ad esempio un po' come è Ethereum per Dragon Chain che Dragon Chain sfrutta la blockchain di Ethereum ma ha i propri token e le proprie caratteristiche qui le ICO possono essere eseguite sulla piattaforma di Dragon Chain che consentirà a loro poi di funzionare prima che vengono sviluppate le proprie funzionalità gli utenti di Dragon Chain avranno diciamo un accesso anticipato a questi progetti a seconda di quelli che sono i loro Dragon Chain detenuti nelle wallet si avrà poi un punteggio che viene calcolato moltiplicando la quantità di monete che possiedi per il periodo di tempo in cui hai archiviato queste monete sicuramente è una strategia interessante per far sì che le persone non vadano a vendere Dragon Chain appunto questo contributo non vale se noi deteniamo i nostri Dragon Chain in qualche exchange quindi è fondamentale averli in wallet dove abbiamo le chiavi private il marketplace di Dragon Chain diciamo che è uno scambio decentralizzato in cui i contratti intelligenti e altri servizi relativi al marketing, la consulenza legale, lo sviluppo del software, il reclutamento e via dicendo possono essere scambiati attraverso i token della moneta appunto di Dragon, della criptovaluta di Dragon molto interessante di Dragon Chain è che prevede di portare la privacy a contratti intelligenti cioè contratti che si attivano quando viene soddisfatta una determinate condizioni questi contratti verranno ovviamente memorizzati sulla blockchain quindi saranno contratti completamente decentralizzati e queste informazioni contenute ovviamente in questi contratti possono contenere i dati sensibili dei clienti e quindi stanno cercando diciamo di rendere le informazioni il più private possibili consentendo comunque l'accesso e l'utilizzo di quei dati è un token ERC20 questo significa che viene eseguito sulla blockchain di Ethereum ed è ovviamente compatibile con Ethereum prevede ovviamente di lanciare la propria piattaforma nel 2018 che è in roadmap e per il momento utilizza Ethereum e anche tutte le SEO di Dragon Chain sono ERC20 ovviamente compatibili perciò noi possiamo archiviare o ottenere i nostri Dragon Chain negli wallet Ethereum come MyEtherWallet o Ledger Nano S diciamo che è stata presentata da The Crypto Academy intorno a metà settembre è dato incredibile perché comunque siamo state tra le prime realtà che hanno presentato questo progetto e questo ci fa onore è stato distribuito attraverso un'offerta iniziale di monete quindi ICO che si è svolta dal 2 ottobre fino al 2 novembre 2017 diciamo che l'offerta non aveva limiti ai contributi il che significa che i contributori hanno ricevuto la quantità di token pari alla loro percentuale totale di contributi Dragon Chain non ha effettivamente raggiunto il suo obiettivo di finanziamento ma ha deciso di continuare a lavorare sul progetto quindi diciamo che hanno raccolto realmente molto meno di quanto volevano raccogliere il 55% dei Dragon è stato distribuito attraverso l'ICO il 20% è stato assegnato alla squadra il 10% è stato tenuto come riserva e il 10% alla fondazione e il 5% al Dragon Found quindi la distribuzione è stata molto molto equa gli appassionati del mining che si staranno chiedendo se possono minare in qualche modo Dragon Chain purtroppo la risposta è no perché è un gettone diciamo un token che corre sulla blockchain di Ethereum e non è minabile hanno detto che in futuro probabilmente e potrebbe essere che prenderanno in considerazione anche queste ipotesi che potrebbero potenzialmente essere estratti intanto la fornitura di Dragon Chain è fissa a 433 miliardi 494 milioni di dragon successivamente non ci saranno più dragoni quindi dove è acquistabile Dragon Chain soprattutto allora andiamo a vederlo nel market cap andiamo qui su markets e vediamo che Dragon Chain inizia ad essere listata in più di qualche exchange non è ancora listata nei principali exchange abbiamo Kucoin, EtherDelta tra i principali poi abbiamo Gate.io CoinExchange, Tidex e quindi TokenStore quindi qua potete andare a trovare realmente l'asset Dragon Chain Bitcoin Dragon Chain Ethereum e Dragon Chain Nio anche Dragon Chain USDT quindi questi sono gli asset con Dragon Chain direi che abbiamo terminato The Crypto Academy è qui per presentare i progetti non dopo che hanno fatto il percento come in questo caso ma nella loro fase embrionale andiamo a descrivere a cercare di individuare quali potrebbero essere i nuovi Ethereum missione compiuta con Dragon Chain con questo grande percento raggiunto con un risultato incredibile vi salutiamo da The Crypto Academy ci trovate all'interno del gruppo Crypto Valute Accademia Italiana The Crypto Academy la community gratuita delle criptovalute ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.